La Bici in Città è una manifestazione non solo sportiva, ma completamente sportiva. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare la cittadinanza ad una mobilità sostenibile. Quindi è un'opportunità per girare a piedi e in bicicletta la città per capire che si può fare movimento anche senza andare in palestra. Un movimento a costo zero e vedere proprio la città come una palestra naturale. La Bici in Città è una manifestazione nazionale che si svolge in 150 città in tutta Italia. Uno degli slogan della manifestazione è ridurre il ciclo e il riuso perché vogliamo anche sensibilizzare al riutilizzo delle risorse, evitare gli sprechi. Quindi in questa manifestazione ci saranno in contemporanea anche delle attività educative per i bambini in Piazza d'Italia. Bim Bim Bici è un percorso ludico-motorio per i più piccolini su due ruote che devono solo bicicletta, ma anche con monopattini e quant'altro. Educazione stradale sostanzialmente e poi un laboratorio di riciclo a causa di partecipazione che serve naturalmente a scopo di benificenza. I fondi andranno a sostenere dei progetti in Senegal di formazione per preparatori lico-sportivi che lavorano sia nelle palestre che sostanzialmente nelle scuole per garantire appunto il diritto al movimento e al gioco a tutti i bambini, non solo agli infortunati.